Quasi 2000 tra studenti e personale tamponati, fino ad ora un solo positivo. Proseguono veloci e senza sosta le operazioni di screening della popolazione scolastica di Francavilla Fontana che ad oggi restituiscono un quadro tutt'altro che catastrofico sotto l'aspetto del contagio. Anche le prime due giornate dedicate alla popolazione scolastica della scuola primaria e al personale della scuola dell'infanzia sono trascorse senza allarmi. Un solo positivo fino ad ora. Si tratta di uno studente di una scuola media della città degli imperiali, ora in attesa del test molecolare che con certezza dovrà stabilire o meno l'effettiva positività. Ad ogni modo la percentuale di adesione libera e gratuita sarebbe fino ad ora piuttosto alta. Non è un caso che il sindaco Antonello Denuzzo, attraverso la sua pagina Facebook, abbia percepito in queste operazioni quel senso di interesse collettivo di unità morale civile, richiamati proprio di recente dal presidente Mattarella perché, come ha affermato lo stesso capo dello Stato, è questo quel che i cittadini si attendono.